Noi venerdì andiamo al Quirinale. Speriamo che si chiuda questo teatrino. Se Conte ha i numeri vada avanti. Noi le nostre proposte le facciamo. Ma se non li ha. Allora facciamo come hanno fatto i portoghesi. Andiamo a votare. Lo dice Matteo Salvini. Ospite a Di Martedì. Su Li7. Se fanno taglio tasse al 15%. Se non toccano quota 100. Se ci permettono di tenere sotto controllo l'immigrazione. Se si muovono sulle infrastrutture allora parliamone. Ma è fantapolitica dice rispondendo a chi gli chiede di un eventuale governo di unità nazionale. Tirare a campare con Renzi e Zingaretti? No. Grazie. Noi venerdì andiamo al Quirinale. Speriamo che si chiuda questo teatrino. Berlusconi presidente della Repubblica? Ho risposto a una domanda. Ma trovo curioso che se viene proposto da Salvini al Quirinale diventa un delinquente. Peggio di Totori Ina. Mentre se serve una stampella per Conte allora è uno statista. Berlusconi campa più a lungo di me e di lei messi insieme. Dice poi scherzando con Giovanni Floris. Berlusconi conclude può ancora dare tanto.